La ribolla gialla è un vitigno che ama le cime delle colline, ben drenate, ventose e suoli minerali. La sua maturazione è lenta, si vendemmia a fine settembre-inizio ottobre e questo, grazie all'escursione termica, aiuta a sviluppare profumi e aromaticità molto intriganti. Il grappolo è di media grandezza, gli acini sono medio-grandi, notevole la presenza di polpa e la buccia è spessa. Per queste sue caratteristiche, la ribolla gialla si presta bene anche alla vinificazione con macerazione.